Questa è Elettra, la barca elettrica del comune di Verbagna che prossimamente accompagnerà per escursioni didattiche nel parco di Fondotoce. Intanto però è qui alla Polisportiva di Suna, perché? È alla Polisportiva proprio perché in collaborazione con la Polisportiva e l'Avis Marathon abbiamo deciso di metterci in gioco prima. Cercare di dare un sorriso, strappare un sorriso ai disabili che non hanno mai avuto l'occasione di salpare su una barca e andare a fare un giro sul nostro lago. La barca è elettrica e ha questa caratteristica, è omologata per il trasporto di disabili sulle carrozzine. Infatti la murata sinistra dell'imbarcazione ha questa possibilità di accogliere al suo interno i disabili in completa sicurezza. Quindi ci sarà una giornata, domenica 10 aprile, potranno partecipare le associazioni? Assolutamente sì, dalle 13 alle 18 saremo qua a disposizione dei nostri amici proprio per strappargli un sorriso. Poi chissà, non è un problema visto che comunque ancora per qualche mese la barca sarà in gestione del Comune Verbania. Noi potremmo organizzare altre giornate se saranno necessarie per poi dare l'ingestione a delle associazioni proprio per il suo scopo iniziale, cioè le visite didattiche all'interno della riserva di Fondotoce. In un modo al 100% ecologico e sostenibile Elettra tra l'altro naviga senza far rumore. Assolutamente sì, è bellissimo.